buonasera ragazzi eccoci qua era un po che non mettevo su un video l'estate io purtroppo ho poco spazio per questo mi dedico più al mio lavoro al mio lavoro primario questo è un hobby bellissimo qui abbiamo il coltivo di rotiferi ecco peponi guardate qui è pazzesco quello che si tira fuori se qualcuno ne ha bisogno io ne ho ne ho perché guardate con la popolazione popolazione ma disumana popolazione a dir poco allucinante guardate qui che rossicci che sono allevati con fito e zogro ora sto sdoppiando per farne ancora guardate qui c'è una roba pazzesca ecco qui abbiamo fatto schiudere l'artemia vedete qui quella nuvola bianca quale sono artemiucce schiusa ieri messe a coltivo questa l'abbiamo già sdoppiata e cominciamo a coltivo ecco ora vi faccio vedere la mia maschettina nel frattempo diciamo che non è però stiamo andando benino ho aggiunto dei piccoli corallini diciamo che ho leggermente i fosfati alti non i fosfati initrati che sto abbassando piano piano eccoli qua ecco con calma piano 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 e mani in tasca più possibile cosa molto poco probabile perché con calma con calma facciamo tutto con calma facciamo tutto masc piano 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 Grazie a tutti.